Ah ah, caro maestro! Tra poco iniziano le puntate nuove di Avanti Un Altro. Oh, ha fatto tutto quello che le ho detto? Ho fatto tutto. Oh, quelli del salottino! Gli ha dato da mangiare in questi mesi? Certo, ci mancherebbe pane e acqua due volte a settimana. Bravo, bravo, bravo. Adesso però li tiriamo fuori dal container. E che faccio? Li seguo? Li seguo? Li slego? Certo, così si sgranchiscono un po' le gambe, gli facciamo vedere la luce e li lavi, e li lavi. Ha capito? Vabbè, allora vado. Sì, faccia attenzione però, che adesso potrebbero essere aggressivi. Sì, sto attento. Eh, pane e acqua due volte a settimana. Avanti Un Altro. Ammazza quanto c'è costa. Dal lunedì 18.45, canale 5.